L'aretino Domenico Gianni potrebbe a breve dire addio alla Gendarmeria Vaticana, un'ipotesi avanzata questa mattina dal Corriere della Sera che parla di una procedura avviata in seguito alle indagini sulle operazioni finanziarie intraprese da alcuni uffici della Segreteria di Stato. Domenico Gianni da 13 anni è al comando della Gendarmeria, ha condotto indagini con scrupolo, rigore e capacità, da sempre accanto al Papa per la sua sicurezza, adesso dunque rischia di essere sostituito. Durante gli accertamenti infatti ci sarebbe stata una soffiata alla stampa che non sarebbe stata gradita in Vaticano. Secondo il Corriere della Sera la pubblicazione da parte di un settimanale dell'immagine di una nota interna firmata dallo stesso Gianni avrebbe creato una situazione di imbarazzo. La nota infatti riportava la foto delle cinque persone finite sotto indagine e la disposizione di vietare loro l'ingresso in Vaticano in assenza di un'autorizzazione della magistratura vaticana. Pare che Papa Francesco non abbia gradito questa fuga di notizie e soprattutto non ha gradito il fatto che le cinque persone siano state esposte pubblicamente. In seguito all'episodio ci sarebbe stato anche un incontro tra il Papa e Gianni nel quale sarebbe appunto emerso il disappunto di Bergoglio. Gianni però non sarebbe additato come l'autore della soffiata, piuttosto gli verrebbe contestata un'omessa vigilanza. Il comandante adesso dovrà consegnare una relazione sull'episodio per spiegare così cosa è accaduto. Le voci sul suo avvicendamento dunque si fanno ogni giorno sempre più insistenti. Per lui si parlerebbe di uno spostamento ad un altro prestigioso incarico. Domenico Gianni si è detto provato e amareggiato.